Assessore ancora un evento sportivo da non perdere, Tolentino sarà pacificamente invasa da tanti corridori per la Crazy Run Tolentino appunto in programma domenica. Sì, domenica 13 maggio, partenza a Tolentino alle ore 9, siamo arrivati alla terza edizione, è una manifestazione che sta crescendo di anno in anno e quindi l'invito subito che faccio a partecipare numerosi. Ci sarà una corsa, corsa competitiva di 10 km, poi una passeggiata di 3,5 km e infine una corsa per i bambini. Il messaggio, soprattutto è un messaggio importante, quello che vogliamo dare, è un messaggio sicuramente di sport, di cultura sportiva, ma anche un messaggio di solidarietà e di cultura della donazione, perché infatti saranno presenti insieme a noi i donatori Avis e quindi il messaggio che vogliamo lanciare è anche quello di iscriversi all'Avis che ha bisogno di noi e noi soprattutto abbiamo bisogno di loro. Per il resto io ringrazio naturalmente l'associazione ASD Crazy Sport che ci aiuta ogni anno a organizzare questa bellissima manifestazione e tutti i vari sponsor, perché senza di loro naturalmente l'amministrazione pubblica non sarebbe in grado di organizzare così tanti eventi. È bella la formula perché, ripeto, unirà sportivi, appassionati del settore, neofiti e famiglie. Facciamo rete, corriamo, corriamo per Tolentino e corriamo anche in favore dell'Avis. Alessandro Fineschi di Crazy Sport, terza edizione di questa Tolentino Crazy Run, appuntamento da non perdere, c'è da divertirsi, si parla anche di donazione e quindi di solidarietà grazie all'Avis, insomma tanti ingredienti per una bella mattinata di festa e per godersi Tolentino, perché no, o correndo o passeggiando. Sarà una manifestazione assolutamente da non perdere perché veramente abbiamo un'attività un po' per tutti, dai bambini che faranno delle corse velocità alle camminate per le famiglie, quindi chi accompagna può anche fare attività e per i più agonisti e più allenati abbiamo una corsa di 10 chilometri che si svolge lungo le vie di Tolentino e verso il lago delle Grazie con un percorso secondo me molto bello e anche molto naturalistico. Il sostegno ci è stato dato da molti a Tolentino, a partire dall'amministrazione, dai nostri donatori come Free Sport, come l'Arena, Valtush, ecco questi sono i maggiori, poi il sostegno dell'Avis, quindi anche attività sociali e solidali e poi naturalmente non ho elencato tutti perché sono veramente tanti, ma poi li scoprirete anche venendo domenica mattina a Palazzo Europa e li troverete tutti, li potrete anche conoscere tutte queste realtà di Tolentino.